Spettatrici e spettatori del piccolissimo schermo, oggi per l'altro lato del giro incontro una figura di rilievo dei testimonial di Banca Mediolanum, Dalia Muccioli. Dovrebbe arrivare proprio in questo istante. Buongiorno Fabio! Buongiorno a te Dalia, come stai? Benissimo. Ti chiedo subito di raccontarmi secondo te quello che sarà il giro in 10 secondi, prego. Sarà sicuramente un'esperienza fantastica, non vediamo l'ora di pedalare sul nostro territorio e tifatici. Bene, che ti aspetti? Quali saranno le tappe? Dove andrai? Che bicicletta hai? Pedalerò sulla mia bici personale, una BMC, ovviamente passeremo da casa mia, da Cesena, quindi non vedo l'ora proprio di pedalare sulle mie strade. Onoratissima di partecipare al Giro d'Italia come testimonia, tra l'altro la prima testimonial donna per Banca Mediolanum. E mi sa che è il momento di partire, voi seguiteci, noi saremo qui, incontreremo altri testimoni. Ciao! Buona giornata!